Chi è il gatto e chi è la volpe tra lei e Calenda? Chiede a bruciapelo Mirta Merlino a Matteo Renzi all'aria che tira, sulla 7 nella puntata del 2 dicembre. Il gatto e la volpe parlano con Pinocchio, risponde il leader di Italia Viva. Ma Giorgia Meloni vorrà fare la fatina. Sallusti può fare mangiafuoco? Calenda, prosegue Renzi, ha fatto bene ad andare dalla Meloni. Noi siamo l'opposizione e abbiamo visto questa manovra, questa legge di bilancio, bruttina, mediocre, né carne né pesce. Oggi aumenta il costo della benzina, mentre in rete gira un video di Meloni che si lamenta delle accise sulla benzina. Aumentano benzina e sigarette, dal primo gennaio, ed è subito Prima Repubblica, questo dà il senso di un governo senza un'idea. Noi facciamo delle battaglie ma cerchiamo di dare una mano facendo le nostre proposte, dal ripristino dell'unità di missione Italia Sicura, Industria 4. 0, insiste il leader di Italia Viva. Quindi se Calenda migliora una legge di bilancio brutta ha fatto il suo dovere. E infine su Conte, dice faremo la guerra civile se toccano il reddito, Letta fa le manifestazioni, noi chiediamo agli italiani di esprimersi per avere 37 miliardi per la sanità con il famoso MES. E infine su Conte, dice faremo la guerra civile. Conte, dice faremo la guerra civile. Conte, dice faremo la guerra civile. Grazie a tutti.